entriamo nel vivo della preghiera del cuore. Prima di tutto io devo fare un chiarimento sulle parole per intenderci. Quando voi sentite parlare di preghiera del cuore, sovente la parola è usata nel senso della spiritualità orientale che considera preghiera del cuore, dicono loro, quando uno si immerge tanto nella preghiera che voi conoscete, la preghiera di Gesù, la preghiera del pellegrino russo, Gesù figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore, quando la preghiera passa dalla mente al cuore e diventa abituale. Questo è il senso frequente con cui si usa il termine preghiera del cuore. Io devo avvertirvi che mi scosto un poco da questa concezione e mi sembra che la preghiera del cuore ha un raggio più grande ancora e allora cerchiamo di capire bene i termini. Dunque cos'è il cuore? Cos'è la parola cuore? Cos'è intendiamo con la parola cuore? Parto dalla spiegazione di Moioli che ho citato ieri. Il cuore è la misura dell'uomo e lo definisce. Cioè il cuore è il centro dell'essere. Il cuore è il più profondo dell'essere. Quando Luca dice che Maria conservava tutte queste cose e le meditava nel suo cuore, ecco, siamo in quella dimensione lì. Meditava nel più profondo del suo essere. Quando il libro della Sapienza dice Dio ha dato loro un cuore per pensare, ai saggi ha dato un cuore per pensare, siamo in questa definizione, la profondità dell'essere. Quando il Salmo dice Il mio cuore, la mia anima e la mia carne gridano di gioia. E in questo senso il nostro linguaggio popolare anche sovente allude al cuore come alla profondità dell'essere. Quando per esempio una mamma ha il figlio che non studia e gli dice ma metti un po' di cuore in quello che fai, in quella materia lì che ti è tanto ostile, metti un po' di cuore. Cosa intende dire la mamma? Metti il meglio di te stesso. Ecco, in questo senso intendiamo cuore. Il centro, il meglio di te stesso, il più profondo dell'essere. Ecco, rispondo adesso a una obiezione. Parlando di preghiera del cuore, Noi parliamo di un metodo di preghiera. Oserei specificare bene che la preghiera del cuore non è un metodo di preghiera. Anche se all'inizio suggeriamo alcune norme pratiche che aiutano la concentrazione, che facilitano la preghiera del cuore. La preghiera del cuore, io direi, è una vita. La sua anima, il suo centro è l'amore. Si potrebbe definire così. È il tentativo di cambiare il rapporto con Dio e tutta la nostra preghiera in rapporto di amore. Ecco, definirei così. Non è fatta di belle parole o di bei sentimenti la preghiera del cuore. È fatta di amore. Non è un intreccio di bei pensieri, ma è piuttosto una comunione della nostra volontà con la volontà di Dio. E la volontà deve staccarsi da ogni disordine per aderire perfettamente alla volontà di Dio. Questa è la preghiera del cuore. Vi dico subito una cosa. Voi avete già fatto tutti la preghiera del cuore e non sapevate che la facevano. Perché di sicuro è arrivato un momento della vostra vita, molte volte è legato all'effusione dello spirito, è arrivato un momento della vostra vita in cui vi siete sentiti profondamente schietti con Dio. Ecco, avete fatto la preghiera del cuore. Avete fatto la preghiera del cuore. Momente in cui avete sentito questa forza dentro di voi. Io amo proprio il Signore. In questo momento lo amo proprio. Darei la vita. Ecco, siete arrivati alla preghiera del cuore. Avete fatto la preghiera del cuore senza che lo sapevate. Però il farlo di tanto in tanto nella vita è una cosa. Il farlo sistematicamente tutti i giorni è tutta un'altra cosa. Ecco cosa vogliamo insegnarvi. Provate a rendervi sinceri tutti i giorni per un'ora davanti a Dio. Poi vedrete le vostre cose come cambiano. Siete arrivati alla profondità dell'essere che si apre alla volontà di Dio. Poi vedete che cosa succede nella vostra vita. Io oserei dire a voi del rinnovamento e l'effusione dello spirito che dura 24 volte su 24. È un clima interiore. La preghiera del cuore è un clima interiore. E quindi non è un metodo. E non è legata né a tecniche né a metodi. Anche se alcune tecniche sono raccomandabili per avviare il silenzio e la concentrazione. L'amore trascende tutti i metodi e tutte le tecniche. Si potrebbe dire che la preghiera del cuore è la preghiera diventata semplicissima, essenziale. La preghiera diventata amore. Ecco, adesso entriamo proprio nel vivo. Io cerco di tracciarvi quello che per così dire sono state le nostre esperienze di questi dieci anni. Quando è scoccato l'anno Mariano noi abbiamo detto cosa potremmo fare per far veramente contenta la Madonna in questo anno Mariano. Allora abbiamo fatto un'inchiesta nella comunità vicina e lontana, in tutte le fraternità del mondo. E la risposta della nostra comunità è stata questa. Rinnoviamo la preghiera. Rinnoviamo la preghiera. Questo potrebbe essere la gioia più grande che possiamo dare alla Madonna. Cioè riscopriamo la preghiera del cuore, è stato detto. Allora ci siamo tuffati in grande a riscoprire la preghiera del cuore. Erano dieci anni che la praticavamo. Quest'anno, vi confesso, decidendo di mettere a nuovo la preghiera del cuore, a me ha dato la sensazione di riscoprirla un'altra volta. Quindi vi metto davanti un po' l'esperienza di questo anno Mariano. La luce che il Signore ci ha dato sulla preghiera del cuore dopo dieci anni che la facevamo. L'abbiamo riscoperta di nuovo. Dunque abbiamo cominciato a capire che la preghiera del cuore è come una maturazione nell'amore. Un cammino per sviluppare la nostra capacità di amare. E abbiamo detto, ecco, bisognerebbe fare come delle tappe di percorso e percorrerle tutte sistematicamente queste tappe. La prima tappa, io la chiamerei così, la prima palestra, la prima palestra della preghiera del cuore. Imparare ad amare. Credo che la prima tappa della preghiera del cuore è imparare ad amare. E' in questa palestra che formiamo le ossa alla preghiera del cuore. Urge per noi formare una mentalità nuova. Questa mentalità. Pregare non è far parole. Pregare è amare. Se non entra in testa questo chiodo, io non parto bene con la preghiera del cuore. Pregare è amare. Non esaltarci. Non far belle parole. Non dire delle belle cose a Dio. Pregare è amare. Ci sono due documenti scritturali che formano, per così dire, il basamento della preghiera del cuore. Il primo è quello che Gesù ha insegnato sulla preghiera, cioè il Padre Nostro. Se voi analizzate il Padre Nostro, voi vi accorgete che Gesù insegna la preghiera come amore. Nel Padre Nostro ci sono sette domande. Sono sette atti d'amore, se li analizzate bene. Tutte le richieste del Padre Nostro sono richieste di amore. Sono atti di amore. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Persino quella che ha un'incrinatura. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E anche amore. Perché c'è un plurale prima di tutto. Quindi io sto pensando a tutti. Sto pensando in questo momento al Bangladesh. Non è amore questo? Mentre chiedo il pane quotidiano. Senza dire che i padri antichi, tanti padri antichi, traducevano non dacci oggi il nostro pane quotidiano, ma dacci oggi il nostro pane sopra sostanziale. Che cos'è? Che cos'è? La grazia. L'amore. Tanto che un bravo parroco mi ha detto, io voglio, dopo il deserto, io voglio insegnare la preghiera del cuore in grande nella mia parrocchia. Cosa devo fare? Io ci ho pensato bene e gli ho detto, ecco, alle persone semplici, semplici, ricordati che devi dare la preghiera del cuore. Prova a fare così. Chiedi alle persone che provino un giorno della settimana a fare, a dire il Padre Nostro impiegando mezz'ora. Li porti alla preghiera del cuore. Ecco, se volete divulgare la preghiera del cuore in modo semplice, basta questo, che cominciate voi. Adesso il Padre Nostro non lo dirò mai più in modo banale. Noi lo diciamo con tale solennità al Padre Nostro che colpisce tutti, ma colpisce sempre di più noi. È una preghiera che non finisce mai nella sua profondità. Ma è proprio la preghiera del cuore. È la preghiera del cuore il Padre Nostro. Se voi vi abituate, per esempio, vi suggerirei, nella terza parte dell'esercizio che vi faccio fare, dunque il primo quarto d'ora vi chiedo di immergervi nella presenza dello Spirito San e chiedere la capacità di amare, la capacità di imparare a pregare. Il secondo quarto d'ora vi chiedo di rivolgervi a Gesù e pregare nel modo più semplice. Se vi sentite tanto deboli, tanto poveri, pregate con la preghiera del cieco, Gesù che io veda. Oppure pregate con la preghiera del pubblicano, Abbi pietà di me, peccatore, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Ma fate attenzione a una cosa, che non diventi una preghiera vocale. Perché voi, ripetendo, ripetendo, a un certo momento slittate di nuovo nella preghiera vocale e perdete il contatto della presenza del Signore. Invece è stare presenti che conta. Allora vi succederà di dire, beh, basta la parola Gesù. Dico Gesù. E così è più facile il collegamento, l'essere presente a Lui. Poi la terza parte vi ho chiesto che vi rivolgiate al Padre. Ecco, potreste oggi fare l'esperimento di fare il Padre nostro impiegando un quarto d'ora, impiegando mezz'ora. Voi state facendo in grande la preghiera del cuore e vi attrezzate a insegnarlo agli altri. E quando avete un pugno di cristiani che pregano così, voi fate nelle parrocchie qualunque rivoluzione. Lenin diceva che per fare una rivoluzione bastano tre persone. Quando avete un pugno di gente che prega, voi fate qualunque rivoluzione nelle parrocchie. Nelle comunità religiose. Se la vostra comunità religiosa è addormentata, svegliatela. E svegliatela con la preghiera del cuore. Portando al centro la gente. E piantatela lì con stettiritere che non dicono niente. Persino il breviario bisognerebbe chiuderla a un certo momento. Ma stai comunicando con Dio o cosa stai facendo? Sapete che Sant'Agostino ha una frecciata di quelle. Dice, dice, il salmo diare di certi sacerdoti, Dio lo ripudia. Preferisce l'abbaiare dei cani. Il salmo diare di certi sacerdoti. L'abbaiare dei cani. Ma molte volte la nostra preghiera si insabbia in quella nullità lì. Parole, parole, parole. E non comunichiamo. E tantomeno amiamo. E Gesù ha insegnato la preghiera come amore. E noi siamo lontani. E sono contento che qualche prete entra in crisi. Dobbiamo entrare in crisi tutti. E toglierci le maschere. Ma io prego o non prego? E da quanto tempo prego? La mia preghiera è amore o non è un amore? Perché Gesù ce l'ha data così. E l'altro fondamento biblico è Deuteronomio 6. La pagina d'oro. La pagina d'oro della Bibbia. La pagina più importante dell'Antico Testamento. Nel Pentateuco, i versetti del Pentateuco sono 4875. Ma i versetti dello Shemma li assomma tutti. La pagina più pregata da Israele in tutti i tempi. Fino ad oggi. La pagina coperta di sangue. La pagina che ha creato i martiri di Israele. Da Rabi Akiba fino ai forni crematori. Sapete che Rabi Akiba andava al martirio e sorrideva. E il boia dice, perché ridi? E lui dice, sono contento. Perché questa è l'ora in cui io recitavo lo Shemma. E dicevo a Dio che lo amavo con tutte le forze. Ma adesso mi accorgo che dicevo una menzogna. Invece adesso lo amo con tutte le forze. E vado al martirio a dare la mia vita. Adesso sono sicuro che lo amo con tutte le forze. Adesso posso proprio recitare lo Shemma. Una pagina, la pagina più pregata di Israele. E la pagina più importante. Notate, non lo dico io, l'ha detto Gesù Cristo. Ed è curioso. Il testo sarebbe bello che oggi prendeste mano in mano a Deuteronomio 6 e leggeste lo Shemma. Perché in questa pagina si fonda tutto l'ebraismo e tutto il cristianesimo. E' bello anche vedere il contesto di questa pagina. Si trova nel secondo discorso di Mosè, dopo il Decalogo. Quasi come il compendio del Decalogo. Ed è preceduta da queste parole. Camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore, vostro Dio, vi ha prescritta. Perché viviate e siate felici. Notate, Dio insegna la preghiera del cuore perché siamo felici. E voi vi accorgerete che la vostra vita cambia di tono se arriverete alla preghiera del cuore. Non potete più essere preti col muso perché avete la gioia che vi sgorga dentro tutti i giorni, tutti i giorni. E la rinnovate tutti i giorni perché voi volete amar Dio con tutte le forze. La Bibbia di Gerusalemme commenta lo Shemma con queste parole. L'amore di Dio non è proposto come una scelta. L'amore di Dio è comandato. E Gesù ha fatto una dichiarazione solennissima di questa pagina. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. Quindi tu, se non sei a posto lì sopra, sei a posto su niente. Hanno capito tutti? Se non sei a posto lì sopra, sull'amar Dio con tutte le forze, non sei a posto su niente. Ma com'è possibile non separarsi mai dal comando dell'amore di Dio con tutte le forze? Com'è possibile? Appunto, facendo diventare questo comando la tua preghiera. Cambiandolo in preghiera. E allora nella storia della spiritualità di Israele, questa pagina è diventata preghiera. E Gesù dichiara solennemente che questo è il massimo dei comandamenti. Non possiamo prendere alla leggera il dovere quindi della preghiera del cuore. Dobbiamo lottare fino a farla diventare il tessuto della nostra esistenza. C'è un proverbio americano che dice così. Love works if you work at it. L'amore funziona se tu lo fai funzionare. Come faccio ad amarti io con tutte le forze? Buttati, buttati. Fai funzionare il tuo amore. Appunto, la preghiera del cuore. La preghiera del cuore è per aiutarvi a vivere lo Shema. E per aiutarvi a ubbidire al comando di Gesù. Che la preghiera deve essere tutta un tessuto di amore. E allora bisogna cominciare. Da cosa cominciare? Nella nostra esperienza. Vi dico che si tratta di presentare delle esperienze. Non sono delle teorie. Allora comincio a dirvi la cosa che ho capito nel cammino della preghiera del cuore. Ho capito che bisogna formarsi al silenzio. Notate bene, il silenzio non è un vuoto. Se fosse un vuoto sarebbe pigrizia. Il silenzio attivo. Il silenzio che ama. Quindi è tutta un'altra faccenda che star lì e far niente. Anzi, vi confido questo. Noi quando cominciamo l'allenamento con i giovani, noi chiediamo solo un quarto d'ora di preghiera del cuore. Non di più. Perché? Perché è faticosissima la preghiera del cuore. È faticosissima. Poi diciamo, poi passerai a mezz'ora. Noi cominciamo. Beh, vi spiegherò poi. C'è qualcuno che chiede di scuole di preghiera. Per consolarlo facciamo così. Venerdì sera faremo una grande tavola rotonda sulle scuole di preghiera. Così possiamo dare delle idee. Dunque noi cominciamo col quarto d'ora. Perché abbiamo paura a chiedere di più. Io voi vi ho trattati da adulti. Vi ho chiesto un'ora. No, vi ho chiesto tre quarti d'ora. Vi ho trattati proprio da adulti. Vi ho presi proprio di brusco. Vi ho dato un pugno nello stomaco. Ma abbiate gioia di aver ricevuto il pugno nello stomaco? Perché avete visto che ce l'avete fatta. Tanti ce l'hanno fatta. Sono riusciti a stare tre quarti d'ora. Un'ora intera in silenzio davanti all'Eucaristia. Amando. Dunque, la prima cosa da fare. Il silenzio. San Tommaso dice Dio si onora col silenzio. Perché tutto ciò che si dice o si pensa di Lui è inadeguato a Lui. Chi ha paura del silenzio non si formerà mai alla preghiera profonda. E questo lo dovete dire in tutti i toni nel rinnovamento, nei vostri gruppi. in tutti i toni finché entra. Chi ha paura del silenzio non si forma alla preghiera profonda. È la preghiera comunitaria che facciamo insieme. Ma lì è il divertimento della preghiera. È l'introduzione. È scaldare il cuore. E poi il cuore deve partire. Devi convertirti. Se non arrivi alla conversione, hai fallito. E dovete battere questo chiosdo. Chi ha paura del silenzio non si forma alla preghiera profonda. È silenzio esteriore ed interiore. Cioè, prima di tutto è necessario l'allenamento al silenzio del fisico. Essere calmi, rilassati, padroni del vostro corpo durante la preghiera. Perciò sedete tranquillamente quando è troppo faticoso. Però non troppo. Non troppo. Quando vedete invece che resistete bene in ginocchio, resistete in ginocchio. Ma fatelo calmi, rilassati e pieni di gioia. Se non lo fate così, non vi serve molto. Silenzio di parole e di ogni fatuo verbalismo. Silenzio degli occhi. Gli occhi chiusi o fissi sull'Eucaristia o su un'icona o sulla parola di Dio. Silenzio della fantasia. Fermare con dolcezza l'immaginazione perché non scorazzi e non disturbi. Silenzio delle emozioni. Silenzio della mente. Basta un pensiero solo. Essere presenti all'eterno presente. Silenzio della volontà. Volere una sola cosa. Essere presenti a Dio per amarlo. E amarlo con tutte le forze. E silenzio del cuore. Amare, amare, amare. Decidere di amare. Voler imparare assolutamente ad amare con tutte le forze. È importante scegliere un luogo adatto. E questo luogo non è tanto adatto. Però nel deserto ci vogliono dei sacrifici. Il Signore ci ha chiesto questo e facciamolo volentieri. È importante, e il motivo è questo, che la preghiera del cuore è basata sulla concentrazione. E non tutti i luoghi si prestano alla concentrazione. Se voi andate là, davanti al bar, di sicuro non mi concentrate. Se voi andate in una piazza, non potete concentrarvi. Certi luoghi aiutano la concentrazione, certi luoghi la ostacolano. Dunque è importante scegliere un luogo adatto. Noi abbiamo dei giovani operai che fanno la preghiera del cuore, lavorano alla Fiat, nell'intervallo di mezzogiorno si prendono il panino, hanno la loro panchina in un parco, una panchina isolata, si mangiano il panino e avanti. Si tuffano nella loro ora di adorazione. Notate, noi ai giovani chiediamo di arrivare tutti i giorni all'ora intera di preghiera. Tutti i giorni. E quando abbiamo finito il corso, che dura un anno, il training alla preghiera nostro dura un anno. E' come un noviziato. Il giovane per un anno intero deve sacrificare ogni sabato e ogni domenica mattina e iniziare questo cammino per imparare a pregare. E' finito il corso, dopo l'anno, noi facciamo un famoso pellegrinaggio a piedi, una marcia notturna a piedi, a chiedere questo al Signore. A chiedere al Signore per l'intercessione di Maria che per tutta la vita, mai più mollare, tutti i giorni, l'ora di adorazione e un capitolo di Bibbia. Tutti i giorni. Facciamo un pellegrinaggio apposito per chiedere la costanza nella preghiera del cuore per tutta la vita. L'ora di silenzio davanti all'Eucaristia o davanti alla scrittura o davanti a un'icone per tutta la vita. E' fatta sotto la forma della preghiera del cuore. Quindi, e lo chiediamo qualunque, noi abbiamo sposi, abbiamo professionisti, abbiamo fidanzati, abbiamo qualunque persona che ha buona volontà. La novità più impressionante è questa. Nei nostri corsi sulla preghiera del cuore che durano un anno, abbiamo ogni anno iscritti per un terzo di drogati, ex-drogati, drogati che lottano. Quest'anno, su 90 ragazzi, noi arruoliamo fino a 90 e tutti gli altri diciamo aspetta un altro anno. E le iscrizioni sono fino a 130, 140, 150. Noi ne scegliamo 90 perché il motivo è che dobbiamo seguirli uno per uno e ognuno ha la sua direzione spirituale per poter fare un cammino serio nella preghiera. Dunque, quest'anno ne avevamo 30, 30 drogati. 30 drogati che escono per sempre dalla droga attraverso la preghiera del cuore. Ecco, questo è per farvi capire la potenza della preghiera del cuore sulla nostra vita. Qualunque situazione voi foste, se voi imbroccate la strada della preghiera profonda, costante, sistematica, che vi porta alla preghiera del cuore, voi risolvete i problemi più difficili della vostra vita. E questo è un documento che abbiamo sotto gli occhi da presentare. 30 drogati arrivati alla preghiera del cuore che tutti i giorni fanno un'ora di silenzio davanti all'Eucaristia. Ecco, se riusciamo a ottenerlo da loro non potranno farlo dei preti. Dunque, fare il silenzio. Poi, seconda operazione, scendere nel cuore. Quando sei abituato al silenzio, scendere nel cuore. Il silenzio non è ancora la preghiera. Il silenzio è la preparazione alla preghiera. Quando in noi c'è questo clima di silenzio, allora suggeriamo di scendere con la mente nella profondità di noi stessi. E' lì che avviene l'incontro con la presenza di Dio, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. E' fondamentale e decisivo per noi l'insegnamento di Gesù. Se uno mi ama, il Padre mio lo amerà. E noi verremo Lui e porremo la nostra dimora in Lui. Allora, se in me c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, io oso comportarmi come se non ci fosse, di lì parte la preghiera del cuore. Devi metterti tutti i giorni in silenzio e scendere a contatto della presenza di Dio in te. Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. E' commovente l'insegnamento di Paolo ai primi cristiani. Non sapete che siete Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? E' la preghiera del cuore e concentrare tutto il nostro essere sulla presenza di Dio in noi e rispondere a questa presenza sforzandoci di amare. Non occorre parlare. L'amore non ha bisogno di parole. Le parole disturbano spesso la concentrazione. Amare! Amare! Ma come si fa? E' molto difficile rispondere. Però lo stare volentieri lì col Signore è di sicuro già amare. Lo stare volentieri con gioia alla presenza di Dio è certamente già amare. Ma sentiamo che questo non è sufficiente. E allora viene in mente il monito di Gesù. Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. E allora precisiamo a noi stessi che amare sta nei fatti, non nelle belle parole e nemmeno nei bei sentimenti. Amare sta nei fatti. E quali fatti? E come posso fare mentre sono lì immobile davanti a Dio? Che fatti posso fare? L'amore sta nei fatti. E i fatti cominciano dalle decisioni. Tu non puoi fare dei fatti, ma puoi fare delle decisioni. Ecco come ami. Qui è lo scatto verso l'amore. E a questo punto noi avvertiamo in modo forte che la preghiera ha bisogno di preparazione. Se i fatti cominciano dalle decisioni, urge prendere delle decisioni concrete, precise, impegnative. Ma le decisioni non si improvvisano. Hanno bisogno di calma, di riflessione, di sondaggio interiore. Per questo noi diciamo che normalmente non è bene iniziare la preghiera del cuore senza già aver preso, senza aver già precisato alla coscienza qualche impegno pratico sul problema vitale che in noi brucia di più. Allora, quasi sempre diciamo quello spazio che dedichi allo Spirito Santo in cui chiedi di saper amare, in cui chiedi di saper pregare, potrebbe essere lo spazio della tua verifica e quindi che qui ci va a fare la mia un'altra persona che dice che la sua